Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraftita Quest'oggi mi sono posto un obiettivo e devo dirvi sono riuscito ad ottenerlo prima di iniziare il video Allora cos'è che voglio fare? Come vedete ho nell'inventario la fishing rod perché proprio nello scorso episodio Ma anche nella live di questo weekend mi ero soffermato sul fatto, anzi voi vi siete soffermati sul fatto Che la mia elytra bene o male si stia rompendo, cioè usarla, usarla, è vero la uso poco, la uso poco Però alla fine dei conti ce l'abbiamo già a metà dell'utilizzo, è vero che c'è sopra un breaking 3 Però a quanto pare non basta, perché se siamo a metà dell'utilizzo, vuol dire che senza un breaking sarebbe già rotta da un pezzo Quindi mi sono messo qui, come sapete questa farm di pesca è molto comoda, è molto bella Ma nella 1.13 non si può più diciamo glitchare tra virgolette la tastiera, il mouse, in modo che il tasto destro vada all'infinito Quindi è un po' un problema, quindi mi metto qui con tanta pazienza e mi metto a cliccare con il destro Questo è Whatsapp che vuole salutare, mi metto a cliccare con il destro, tengo premuto mentre guardo Netflix Tra l'altro sto guardando la serie Afterlife di Ricky Gervais Spettacolare, non la consiglio a tutti perché sono temi Lui è un comico black humor, non sono temi che potrei consigliare a tutti Però se siete già un po' più grandini e se conoscete già Ricky Gervais è consigliatissimo È davvero molto bella, l'ho finita questa mattina Non dura tantissimo tra l'altro Comunque mi sono messo qui con questa roba della serie Porca vacca, voglio trovare qualcosa con Mending Un libro con Mending E indovinate un po', di qua non c'è nulla Ma di qua ho trovato un libro Non è questo, non è questo, non è questo E questo, Bain of Artropos 4, Mending e Impaling 4 Impaling non ci interessa, Bain of Artropos non ci interessa ma abbiamo Mending E questo ci ha salvato la vita Vedete ci sono un po' di pesceglie, un po' di robe Ma considerando quanto di solito ci vuole per trovare un libro con Mending Ho avuto una fortuna incredibile Quindi, detto questo ci richiamo subito nel magazzino Andiamo nel magazzino dove abbiamo l'anvil E proviamo a collegare le due cose Non dovrebbe costare troppi livelli, è vero il Mending forse è uno degli enchantment più potenti del gioco Però, allora, qua è già abbastanza rotta l'anvil Qua, qua è ancora intatta Mettiamolo qui, mettiamo elitra Ah, ah, che goduria Che goduria E ovviamente per riempirci di esperienza che facciamo Andiamo a giocare un po' con gli enderman Così ci rileviamo proprio allo sfizio Abbiamo bisogno di esperienza Andiamo dagli enderman, così passa la paura E siamo qui nel nostro bellissimo mondo dell'overworld barra nether Ci cacciamo come se non ci fosse un domani giù per la lava Eccoci qua Ho rischiato tantissimo Ho rischiato tantissimo di finire la lava Va bene, ok Forse devi creare un sistema un po' più decente per atterrare in sto posto Butta sta roba, non le voglio Non le voglio, non le voglio, ma guarda Buttali Sì, forse qua non sarebbe una brutta idea Prendere il percorso più decente O addirittura fare proprio un tunnel Una scala Qualche tipo di percorso che mi porta al portale Perché in effetti con l'elitra si è comodo Però ti dirò È la terza volta se non sbaglio che rischio di finire nella lava E non è bello Non è bello quando finisci nella lava Soprattutto quando hai appena messo manning sull'elitra Che manning non è che ti compare così manning Ora ho avuto un culo enorme Però è difficile da trovare il manning Quando potevi lasciare la tastiera, il tasto, il mouse in automatico Era un conto Anche ora si può, eh Ci sono i metodi Non è che è impossibile farlo Però è più uno sbatti Più uno sbatti rispetto a prima Prima era molto semplice Potevi farlo direttamente in game Ora per farlo Dovesti, sì O staccare il mouse O metti detto tipo Se clicchi col destro e stacchi l'USB Va all'infinito Alcuni mi hanno detto che non funziona Alcuni mi hanno detto no guarda funziona Quindi non lo so sinceramente Alcuni mi hanno detto no Ci sono i programmini Ci sono i programmini Che ti fanno effetto macro Quindi tu dici Premi il tasto destro in continuazione Metti lì Premi un tasto per partire la macro E poi va in loop E quindi potenzialmente il modo ci sarebbe Però la comodità di prima era Che tu facevi partire il tasto destro con la finestra Andava tutto schermo Poi facevi al tab Ma poi potevi continuare a usare il computer Mentre lui pescava Che era una cosa davvero davvero molto bella Allora vediamo in quanto tempo si riempie questa roba Dovrebbe andare abbastanza velocemente in realtà Guardali Guarda qua Guarda qua Tutta l'esperienza che viene raccolta Tutta l'esperienza E la mia elytra magicamente diventerà piena Bella bella Ammazziamo qua Devo ammazzarli con la spada giustamente Perché non sono one hit Siamo a livello zero Sarebbe impossibile portarli a one hit Belli miei endermanucci Dammi qua tutta l'esperienza Sì Oh Ecco tu che cacchio vuoi bello Ammazzarli un po' Oh che cacchio Oh Guarda qua Elytra piena E siamo contentissimi Commanding mamma mia Che lusso Ora sì che siamo a cavallo signore e signori Ora sì che siamo a cavallo Prima avevamo questo mini dubbio Ah magari si sveglia un attimo un giorno E usa la sua elytra E gli si spacca addosso Non più Non più C'è anche da dire però che qua Io se voglio provare a Cioè se rimango qui a farmare Non me ne vado più Perché pieno di esperienze E poi diventa un loop infinito Siamo a 81 livelli Va bene Tanto non abbiamo libri da cercare Non abbiamo per il momento Non abbiamo per il momento Libri da cercare Ecco il fatto che ci sia tutta sta gente qua Però non va bene Ok Ezza calmi Ora Fuori e notte Però questo libro Che ho appena raccolto Mi ha fatto venire in mente una cosa Mi ha fatto venire in mente Uno che Mi mancano un po' di Di razzetti Quindi sarà il caso di andare a farne E l'altra cosa mi ha fatto venire in mente E' che quell'impalling lì Mmm Mi ha ricordato Che io non ho ancora Trovato Dei tridenti Né nulla di tutto ciò Sembrerebbe che I miei amichetti qua Mi stanno ignorando E voilà Possiamo fare Dei razzi Non è vero Potremmo fare dei razzi Non so perché Non mi compare qua Vabbè Comunque Abbiamo dei razzi Che prima ci mancavano Stiamo attento Ai creep Perché sono sempre dietro l'angolo Mori un po' Ecco Allora Questa è la versione Di drown del deserto Solo che non ci interessa Assolutamente Io voglio andare Nell'acqua E' notte Non ho dormito Volontariamente La luna E' proprio in mezzo al cielo Quindi abbiamo circa Mezza nottata Per cercare Di trovare Dei drowned Ora in realtà Questo è Più che altro L'incipit Di quello che potenzialmente Poi sarà Una farm Di drowned Potenzialmente Perché è il metodo migliore Per ottenere I tridenti E le cose Anzi ho già visto Molti design Al riguardo Però c'è anche da dire Che non mi dispiacerebbe Provare Ad uccidere un po' Di gente Ad esempio Ho già docchiato Il primo drowned Il problema è che è davvero In fondissimo Questo deve crearmi Prima di fare qualsiasi Queste cose Deve crearmi Un'armatura Di di Questo non c'ha manco Il tridente tra l'altro Se un altro tridente È un po' un problema Ammazziamolo Ammazziamolo senza Schia di morire Mi la sua rotta in flash E vabbè Forse dovrei Prima di fare qualsiasi cosa Crearmi Un Bello delfino Bello delfino Poi ti porto le memorie Infame Infame Non è che fai tanto Il caruccio Sì sì Ti salto attorno Mort Allora facciamo così Torniamo sulla terraferma Così posso Volare con l'elitra Torniamo a casa E proviamo a fare Un'armatura Decente Prima di Sempre se ho I libri Con incantesimi Adatti Che ora che ci penso Non so se ce li Buongiorno Signor Creeper Allora io ho già Un paio Di amichetti Qua protection Unbreaking Che non sono mai L'elitra In effetti Potremmo tenerla Nell'inventario Quando stiamo combattendo Con gente importante Tipo Non lo so Se mi trovo Con una banda Di 7 Drowned Potrebbe essere Interessante Di sicuro L'elmetto Sul l'elmetto Sicuramente Potremmo fare Dei lavori Anche perché Quello che Più ci aiuta E l'elmetto E anche stivali Perché stivali Sì Feather Falling È utilissimo Ma servirebbe Anche quello lì Che ti fa camminare Bene sottacco Il depth strider Allora intanto Partiamo con l'elmetto Ce l'ho già Nell'inventario Non il problema Che ho l'anvil Di qua I libri Ce li ho tutti Di là Quindi Cerchiamo di capire Tra l'altro Ho anche 31 livelli Possiamo incantare un libro Magari mi esce Proprio di cui ho bisogno Tanto oggi abbiamo iniziato Con una fortuna incredibile Perché no Magari Continua I libri Ah cacchio Non ho i libri Vabbè Come non detto Allora Eh vabbè Ora mi metto un attimo A cercarlo Per vedere se ho qualcosa Del genere Respiration 3 Posto Trovato No però Silk Touch Infinity Non posso Non posso buttare Silk Touch Infinity Per un Respiration 3 Sono abbastanza sicuro Di avere un altro Respiration 3 A qualche parte Dai Eccolo Trovato Perfetto Abbiamo anche Depth Strider Di lusso Loyalty Impaling Sono cose che Per il momento Non ci interessano Acqua Affinity Sarebbe Per Non per il piccone Per l'armatura Sempre Acqua Affinity Se non sbaglio Ok infatti Va sull'armatura Anzi Per la precisione Va sull'elmetto Ok Ok E io ho Acqua Affinity Di che livello Uno Ce n'è solo uno Di livello Effettivamente Qui Channeling Sarebbe per Il tridente Non ce l'abbiamo Ma io voglio dire Che questi tre In realtà Sono già abbastanza potenti Dove fare Tipo Non so se posso mettere Depth Strider Insieme al Federfalling Forse questo Non me lo fa fare Anche qua diventa Davvero costoso Ripare una cosa del genere Guarda Acqua Affinity Respiration Tutto in un libro Vabbè Un botto di roba Ci abbiamo Proviamo 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 a piazzarla Qualche parte Tanto in realtà I livelli massimi Sono questi Vediamo se me lo fa mettere Sul Sul mio amichetto E poi un'altra cosa Che potremmo fare È provare A entrare nel mondo Delle pozioni Anche se Sapete quanto me Che In ogni serie Finisco a fare cose Per le pozioni Ma non le uso mai Non le uso mai Una volta addirittura Ho automatizzato La produzione Di pozioni Con una cosa lunghissima Tipo la prima stagione Di minecraft Forse la seconda Una roba lunghissima Per automatizzare Le pozioni E Non le ho mai usate Non le ho mai usate Basta con questi polletti Però eh State un po' calmini Allora Vediamo Un attimo Com'è la situazione Se io prendo i miei stivali E poi metteci Depth Strider Me lo mette È incredibile Mi costa un botto Ma me lo fa fare Sai che quasi quasi Anzi farò così Prima li riparo Con Un diamantino Forse Un diamantino basta Un diamantino basta Mi costa Mamma mia Sai che costosa sta roba Depth Strider Ok Ora possiamo Camminare velocemente Sott'acqua Che non è male Certo L'oceano è profondo Ma in altre situazioni Può essere utile Ora invece Prendiamo il nostro Bellissimo Protection Fire Respiration Costa 13 livelli Non ce l'ho a 13 livelli Non ce l'ho Come si fa? Cioè L'ho usato tutti per Andiamo dagli enderman Andiamo dagli enderman Ce l'ho abbastanza ferro Per farmi un enderman E metterla lì Potenzialmente sì Ma non so se ne vale la pena Va bene Si torna dagli enderman E si va a farmare esperienza Signore e signori Se ne farmo a un botto Si torna a 30 livelli Così Non avevamo più problemi Di questo tipo Eh? Che dite? A me va bene come cosa? Ogni volta che vado nel nether C'è sempre il rischio Che finisca nella lava Che non è bello Non è bello Se proprio devo dire la mia Però È un rischio che sono pronto a correre Mannaggia Mori un po' Mia immagina se per sbaglio Mi fossi levato Le litre Si butta Senza troppa cattiveria Senza esagerare troppo Perché poi c'è il vuoto E si muore subito Questa cosa è OP È bellissima sta farm Mi viene sempre un'ansia incredibile Quando sono qui Perché so che se per qualche motivo muoio Tutte le robe che ho nell'inventario Finiscono nel vuoto E non è bello Non è bello Non è una bella sensazione Ve lo posso assicurare Va bene Portiamoci a casa Una bella quantità Di ender Perché butteremo nel void E di esperienza Che mi servirà Per Fare una bella armatura A prova d'acqua E siamo tutti incontenti Guarda qua 13 livelli avevo bisogno Ma ora si arriva a 30 In un nanosecondo Se arriva Si avrebbe medding anche sulla spada Però con calma Con calma Non spingiamo troppo La nostra fortuna Perché già averlo trovato Per le litre oggi Non è poca roba E quando il gioco inizia a laggare Capisci che c'è una quantità Di esperienza in giro Forse eccessiva Doviste aspettare un attimino Prima di continuare ad ammazzare gente Eh già Non finisce proprio più Guarda quanta esperienza Talalero talalà Sai quanto cosa farebbe Cioè non ridere Se avrebbe un video interessante Un video extra In cui provo a ottenere più esperienza possibile In Non lo so Tottore Vedere quanto arrivo Ok Abbiamo 33 livelli Meglio di niente Allora Elmetto a noi Sarebbe bello mettere il medding anche sull'elmetto Certo Poi se muoio Non so cosa faccio Però Allora Respiration 3 E acqua affiniti 17 livelli Sono di nuovo a 0 Interessante Interessantissimo Ottimo Allora Ora che abbiamo di nuovo rimosso la quantità di livelli che abbiamo accumulato Si sta facendo notte Per noi è perfetto Prendiamo il nostro razzo E proviamo A tornare verso l'oceano A questo punto E capiamo Se l'acqua fa per noi oppure no Allora direi Non allontaniamoci troppo Abbiamo capito che in realtà i drowned Stanno un po' dappertutto E vediamo un po' come è la situazione Intanto vediamo Quanto mi dura ora respirare sott'acqua Con respiration 3 Beh C'è una bollicina esplode dopo Tanto tempo Se vado a terra In teoria posso Camminare Letteralmente Posso camminare Come se No se abbiamo contro È un casino Però allora Dura un botto Dura un botto Beh che figata Poi Ah qua c'è un drowned Ora lo vado ad uccidere Voglio capire se Tornati in superficie Recupera velocemente Ok Cioè overpowered Costa Costa non poco Costa tanti livelli Però ne vale assolutamente la pena Vale assolutamente la pena E anche il mining con l'acqua affinity Non è poca roba Cioè Oh mi ha dato un lingotto d'oro Ottimo Grazie Un'altra cosa che invece è importante Magari sai Quando vai a esplorare un tempio Un tempio Sobacqueo È che ora Rompendo i blocchi Sott'acqua Li rompo alla stessa velocità Con cui li romperei Nella Insomma In superficie Che è una cosa molto comoda Molto comoda Perché diciamo che La La mining fatigue Oddio 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 Ma c'è Il delfino mi ha dato lo sprint Grande delfino No Allora delfino Però se mi spingi verso i nemici Non siamo molto amici Io e te Stai calmo Ora C'è comunque da dire una cosa Che Respiration 3 È figo Depth Strider Mi consente di andare veloce E camminare bene sott'acqua Forse mi viene anche più veloce Nuotando A una certa Tipo Se sto vicino a un blocco In nuoto Vado più veloce Perlomeno così mi sembra La La problematica È che non si vede molto Cioè è tutto blu È tutto È tutta acqua profonda Giustamente Cioè non è che se uno Si infila sott'acqua Nel primo mare Che trova Vede tutto Anzi Dipende Qua è tutta sabbia per terra Quindi immagina Però Una bella pozione Della night vision Qui Mi servirebbe Tantissimo Cioè una bella pozione Qui della night vision Fa i miracoli Vuol dire che vedi tutto Possiamo fare un vero e proprio Episodio di esplorazione Del mare Che sembra una figata pazzesca L'unico modo in cui Io sono riuscito a farlo Per ora Era utilizzando la barca Come diciamo Stazione mobile Avevo la barca in giro Nel mare E allora riuscivo A andare sott'acqua Un po' così Ecco lì Però Anche considerando il fatto Che è una certa Vorremmo costruire Delle cose sott'acqua Tra cui Magari una base subacqua Che figo Ho fatto una serie delle sette In una base subacqua Era molto bella Mi piacerebbe riproporla O la farm di Drowned Che può essere utile Cioè È bello avere un tridente Cioè In questa serie Non ho ancora preso un tridente Questa è la Di Taccuati Che io tridente Manco ho visto una volta L'ho visto di più Nella serie delle sette Che qui Ho visto più Nella serie moddata A momenti Cioè ancora no Però sono abbastanza sicuro Che ci sarà Non Non Probabilmente in minecraft Perché è una versione precedente Però capito Vabbè avete capito quello che Quindi vi dirò A questo punto Penso che La prossima scelta Sarà davvero quella di Buttarci sulle pozioni Eh già Eh già perché andare così Un po' a mozzo Non si vede nulla Cioè la visibilità Davvero Non è ridotta È ridottissima Però figo dai Figo Non posso lamentarmi Anche perché Vedendo e scherzando Mi sono fatto un oceano a nuoto Che non è poco Quindi È divertente È divertente Poi magari troviamo I relitti Perduti Quelle robe fighe Tipo da Pirati dei Caraibi Mamma mia Poi non mi sono Pirati dei Caraibi Su Netflix Sto volando Per il momento Ragazzi Io direi Si può tornare a casa Abbiamo Manning sull'elitra Abbiamo creato La nostra armatura Da Oceano Circa Più o meno Vabbè Hai capito E siamo pronti Per Aumentare ancora La nostra capacità Di esplorazione subacquea Guarda lì che figata Cioè fare la base subacquea Là sotto Avrebbe Bellissima E poi la colleghiamo Con un tunnel Segreto Sotto terra Sto volando Sto volando tantissimo Però Però Partiamo Con calma Facciamo le cose Con calma Procedurali Il prossimo passo Penso sarà Le pozioni Perché Ma Mi ha appena spawnato Questo Ok Devo assolutamente Illuminare anche la zona Sopra la porta Perché non è possibile Qua ogni tre secondi Mi compare un mob nuovo Un creeper Esplode Mi rovina la terra Io non ce la faccio più Sti creeper Io li odio Ok Tutti Gli scherzi vanno bene Gli zombie vanno bene Ma i creeper no Perché se mi rovini La terra in cui abito Io mi incazzo Poi E scusa Posso? Posso? Ottimo Grazie A posto Ma l'importante è chiarirsi E sta tutto bene Ma ragazzi Per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Ci vediamo Prossimamente sul canale Con un altro video Di minecraft E tantissimi altri video Domani Se riesco a editarlo Oggi Esce un video reaction Insieme ad Anthony Pants E Tudor In cui cerchiamo di capire Io e Tudor Che cos'è il collegio Perché A quanto pare Io non sapevo proprio nulla Di questa serie E niente Io vi saluto Vi ringrazio di sua visione Ciao a tutti Ciao a tutti